Allarme rosso! Allarme rosso! Allarme rosso! Ma cosa succede questa volta? Ho tre allarmi rossi! Fa troppo caldo! Non so cosa mangiare e devo affrontare la prova costume! Come sempre sei fortunata! Ho io la soluzione ai tuoi tre allarmi rossi! Anzi, tre soluzioni in una! Ti va bene? Ciao amici! Eh sì, arriva il caldo e tutto quello che comporta di confortante e di allarmante! La prova costume non preoccupa solo te! Ah no? Siamo in tanti! L'esigenza principale è trovare il modo di nutrirsi adatto, quindi detox, leggero, dimagrante! Ma dobbiamo anche restare nutriti per non avere cali di energia, sentirci mancare le forze! Proprio in mezzo all'estate, sul più bello! Non è più l'era in cui per dimagrire basta ridurre le calorie e privarsi di tutto! Oggi per dimagrire bisogna usare la testa, bisogna essere smart! Io ho tanta voglia di mangiare cose dolci e fresche! Ma non voglio rovinare tutto! Cosa devo fare? È più facile di quanto credi! Per fortuna ci ha pensato la Foodspring, il mio sponsor! Bevi uno Shape Shake in alternativa ai tuoi snack e ai tuoi dolci! Shape Shake è il frullato proteico con meno carboidrati, meno grassi, più proteine e più fibre! Così, mentre dimagrisci, perdi massa grassa e guadagni massa magra! Costruisci anche una buona muscolatura che rende il tuo corpo molto più bello di qualsiasi dieta, zero calorie o zero grassi che ti svuota e basta! Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video! Tanti mi piace, tanti nuovi video! Shape Shake è buono come un frullato, ma riduce le calorie e lo puoi bere fresco! È perfetto per chi fa sport, chi vuole tenersi in forma, chi si allena! Perché sostiene senza appesantire, è proteico, ma senza zuccheri! Così bevi solo nutrienti che danno energia e fanno crescere i muscoli! Ma aspetta, ottieni anche un altro risultato straordinario! Shape Shake contiene anche inulina, una sostanza naturale estratta dalla radice di cicoria, che ti fa un regalo enorme! Mi fa sparire la ciccia e la sostituisce con i muscoli subito? Quasi! Ti aiuta a regolare il livello di zuccheri nel sangue e ti fa passare la voglia di dolci, ma pensa che liberazione! Così bevi solo nutrienti che danno energia e fanno crescere i muscoli! E lo fai bevendo un frappè dolce, gustoso, senza zucchero, ma con stevia! Puoi scegliere tra i sapori di vaniglia, cacao, cocco, nocciola o più fruttato, lampone, banana, fragola, mango! Basta aggiungere acqua perché il resto è tutto qui! Io lo prendo al cocco, lo adoro! Ma a me la voglia di dolce viene anche dopo pranzo e dopo cena! È vero, il pericolo di un attacco incontrollato di fame e la voglia di dolci sono sempre dietro l'angolo, ma ecco cosa fare! Puoi utilizzare shape shake per integrare il pranzo o la cena e ogni tanto, ma non sempre, puoi bere uno shape shake come pasto sostitutivo completo! Così siamo a posto, sazi, con poche calorie, la voglia di dolce è soddisfatta e non abbiamo sensi di colpa! Eh, senso di colpa a spendere per mangiare bene, quello mai! I soldi per la salute sono il miglior investimento! Comunque, per fortuna, la Foodspring ha un ottimo rapporto qualità-prezzo, come molti di voi già sanno e mi hanno scritto! E poi, tutti i miei follower possono inserire il codice sconto VINALI, piccolo, Y-T, Y-T, grande, per avere subito uno sconto del 15%! Andate sul sito Foodspring a curiosare, ci sono tanti prodotti validi! Così i soldi risparmiati ve li godete in vacanza col vostro nuovo bikini! Allarme rosso rientrato! Grazie Simona! Sul mio canale trovate la playlist con tutti i consigli, bruciagrassi e le ricette per dimagrire mangiando! E per vederli tutti, basta iscriversi al canale! È facile! Con un click, così! E attivate tutte le notifiche cliccando sulla campanella delle notifiche qui sotto! Condividete questo video sui vostri social e con i vostri amici! E nei commenti qui sotto, scrivetemi come avete pensato di affrontare la prova costume quest'anno! Mmm, che buono! Squaletto, provalo anche tu! Oh, gli piace! Noi seguiamo tutti i tuoi video! Funziona! Noi ci vediamo al prossimo video! Nel frattempo, sempre più trendy e sani! Con Simona Vignali, naturalmente! Ciao! Alla fine? No! Sono Simona Vignali! Very good though! Very, very good though! Bye!